Ma Bella Faccia, dove sei? Mi ha detto che sarebbe stato qua. Non lo vedo. Bella Fac... Bella Faccia? Ma cosa stai facendo? Stai suonando il pianoforte. Benvenuto. Ti stavo aspettando. Ma cosa sei impazzito, Bella Faccia? Sei ubriaco. Dai, andiamo a giocare al... Quest'oggi faremo una murder veramente spaventosa. Bella Faccia, è la tua voce che mi spaventa a me, sinceramente. Ma che t'è preso? Andiamo a fare una murder mystery, mamma mia. Ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel mi piace se volete vedere delle altre murder mystery. E la intro non gliela farò fare mai più in questo modo, Bella Faccia. Sono l'assassino. Cosa? Sì, sì, sono l'assassino io. Sei l'assassino? Eh, direi. Sei sicuro, Bella Faccia? Sì, sì, sono io. Ok, quindi ci sono due assassini in questa lobby? Mi sembra molto strano, Bella Faccia, molto sospetto. Ti troverò, Ken, l'hai capito. Ma dove pensi di andare, Bella Faccia? Ma cosa mi vuoi trovare? Scusa. Ehi, perché scappi? Ehi, torna qua, non scappare. Non c'è dato il permesso di scappare. Beccati questo. Fammi vedere che sei un assassino. Dai, fammi vedere. Io? Eh. Vieni, sono qui. Dai. Vieni, vieni. Dai, vieni, vieni. Vieni, vieni. No! Oh, eri il detective, non ci posso credere. Ma che cosa? Ma ero un assassino. Sì. Ma tu pensavi di potermi fregare? Eri convinto. Guarda questo, guarda questo. E ora muori. Tu hai ucciso il tuo miglior amico. No, 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 aspetta. È il gioco, non è che ti ho ucciso. Ma che ucciso? Ma no, Bella Faccia. È tu un miglior amico. E tu chi sei? Perché ti nascondi qua? Prendi questa. Bella Faccia. Perché hai detto che hai rilassato? No! Mi ha ucciso! Sì! Bravissimi. Non l'avevo visto. Oddio, che sta succedendo? Mi hanno vendicato. Mi hanno vendicato. la mappa. Cosa sta succedendo? Sta esplodendo tutto. Mi sono arrabbiati perché l'assassino migliore del mondo è morto. Ehi, Bella Faccia. La prossima volta che mi prendi in giro in questo modo ti faccio vedere io. Eh? Scusa? Eh, sono l'assassino. Sono l'assassino. Beh, adesso cosa sei? Io adesso sono l'assassino. Ah, l'assassino. Tu cosa sei? Qualcosa mi disse che non è vero niente, che sei l'assassino. Perché? Perché potrei essere io. No, 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 non mi fido più. Ormai Bella Faccia tu menti sempre. Menti sapendo di mentine. Eccoti qua, eccoti. Dai, dai, vieni. Dai, fammi vedere che sei l'assassino. Dai. Non sono l'assassino. È un assassino farlocco, ecco. Ma come me lo tolgo questo occhio dalla testa? Uffa. Ce l'ho... Ce l'ho incastrato io mentre dormivi. Cosa ci hai messo? La colla. Ci hai messo la super colla. Dile la verità. Ma questo che cosa c'è? Uh, mi dà uno dog. Uno dog. Uno dog anch'io. Ma io voglio uno dog. No, aspetta, Bella Faccia. Aspetta il tuo turno. Prima io. Oh dog. Oh dog freschi. Mi vado a fare un giro sulle montagne russe, Bella Faccia. Ciao. Eh, vatti a fare un giro. Vatti a fare un giro. Non mi stare qua vicino, eh. Allontanati che sento la tua puzza. Eh, la puzza. Sì. Dove sei andato? Mi sto facendo il giro sulle montagne russe, te l'ho detto. Oh, guarda, c'è la ruota panoramica. Andiamo sulla ruota panoramica, Bella Faccia. Ma quest'assassino dov'è? Ancora? Eh, ancora non si è visto. Però è morto un bel po' di gente. Come vedi, sono morti tre o quattro. C'è una marea. C'è una marea di gente morta. Dove, dove? Lì nel mezzo. Vado a vedere. Allora vuol dire che l'assassino è qua. Ho un arco. Ti proteggerò, hai capito? Guarda che secondo me l'assassino è quello incappucciato, Bella Faccia. Ti provo? Ti provo? Dov'è? Aspetta, aspetta. Voglio investigare. Voglio dargli un'occhiata prima. Va a vedere. Potrebbe non essere lui, sai? Potrebbe essere uno di questi due. Sì, secondo me è lui. Incappucciato, incappucciato. Quello? E' Cappuccino. Prendilo, prendi il Cappuccino. Cappuccino, hai finito di vivere. Oh! Ah, non era lui. No, non era. Ecco. Scusa, Bella Faccia. Scusa, Cappuccino. Abbiamo ucciso l'innocente, Bella Faccia. Forse è il lupo mannaro. Eh, potrebbe essere. Sanno tutti che i lupi mannari sono cattivissimi. Aspetta, devo prendere abbastanza monete per prendere un arco. Oddio, c'è un'altra vittima qua, con la testa scavata dentro il muro. Credo di aver visto l'assassino, Bella Faccia. E chi è, scusa? Sta facendo il giro nelle montagne russe. Eccolo, l'ho visto. E' lui, sono abbastanza sicuro che sia lui. Sì, 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 è quello con la felpa celestina. Ne sono tipo sicuro al 100%. Oh no. Perché ho sentito qualcuno morire là vicino e poi lui, per non destare sospetti, è salito sulle montagne russe. Devo prendere un arco e aspettarlo alla prima fermata. No, sto, sto. Sì, è lui. È lui. No, ha un arco, basta. Eh, no, 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 no. Vedi che mi vuole uccidere? Mi vuole uccidere, è lui, è lui, è lui. È lui, è lui, è lui. Ok, ho bisogno di un arco. Ve la faccio, ho bisogno di un arco. Dov'è la monetina? Dov'è la monetina? Quando serve? Ti sta seguendo. Mi serve una monetina. Qualcuno mi dira una monetina, per favore. Monetine, monetine fresche. Eccolo la monetina. Ok, io so chi è l'assassino, quindi adesso lo posso fermare. Posso porre fine alla sua esistenza. Ve la faccio davanti a te. Dritto, 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 dritto. E là, e là? Prendi questo, assassino. Bravissimo. Non era lui. Ma dai, ho ucciso il detective. Ma io pensavo fosse... Ma chi è questo assassino? Si sta nascondendo benissimo. Era questo qui fin dall'inizio. Ma chi? Col cappuccio. Era quello col cappuccio. Guarda, lo stai seguendo. Guarda. Cioè, ma si è nascosto benissimo e mimetizzato per tutta la partita. Porca miseria. Oh. Dai, dai, dai. Vinci, vinci, vinci. Detec... No. L'abbiamo perso. Ecco. Bravo, Kendall. Ok, bella faccia. Questa volta dobbiamo fare un lavoro migliore come detective. Lo so che non siamo dei detective, veramente. Però possiamo far finta di essere dei detective. Dov'è il mio amico, Kendall? Ma sono io. Dai, bella faccia. Non mi prendere in giro. Lo sai che sono io? Allora, dobbiamo trovare l'assassino. Non ci ha assunto nessuno come detective. Sono morto, stai attento. Chi è stato? È stata la ragazzina? È dietro, dietro di tre. È stata la ragazzina? È dietro di tre o dietro di quattro? Dietro di tre, di quattro. Oh, mio Dio. Mi sa che è stata la ragazzina. Credo di averla vista. Ah, mi seguo. Ma dai, ma scusa. Aveva un mandarino. Mi ha ucciso con un ananas. Un mandarino all'ananas. Bella faccia? Bella faccia. Ehi. Ehi. Cosa? Bella faccia? Ma non sono io quello. Ma come non sei tu? Ma certo che sei tu. È un po' l'ho vestito bene. Oh, baffoni. Baffoni con un occhio gigante che mi permette di vedere ovunque. Bella faccia, tu cosa sei? Baffoni, aiuto. Sono un innocente. Sei un innocente? Sì. Ok, fatti annusare. Fatti adorare. Vediamo se sei veramente un innocente, bella faccia. Perché vuoi così? Sei così curioso? Non sarai mica qualcuno che penso io. No, io sono baffoni. Però se tu non sei innocente, riesco a sentirlo dalla tua puzza. Dalla puzza di sangue del coltello. Sì, io sono il baffoni. Guarda questa mucca sospetta. Cos'è? Un tuo parente? È vestito anche lui in giacca e cravatta, come te. Io mi sono nascosto col cavolo che mi faccio trovare. Come ti sei nascosto? Ma quindi non sei l'assassino? No. Siamo sicuri? Tu hai detto che sono innocente. Ok, allora mi fido. Anche lui si è nascosto, però l'ho visto. Non è molto intelligente. È una mucca in giacca e cravatta. Eh sì, l'ho vista poco fa. È un tuo parente? La mucca, carolina. Fino ad ora nessuno è morto, il che significa che l'assassino è stato fermo, oppure... Bella faccia. Guarda caso tu ti sei nascosto e nessuno è morto. Chissà perché. Chissà l'arcano mistero. Appena ti vedo ti sparo una freccia in testa. Sì, sì, sì. No, 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 non sono io, te l'ho detto. Ti faccio un brodo di pollo, ti faccio diventare. Spero che non sono io, agente. Non riesco a vedere nessuno di sospetto, bella faccia. Siamo in pace, sono tempi di pace questi. Mani in alto. Ho detto mani in alto. Anche io, mani in alto, ti dico. Vediamo chi scocca la freccia per prima. No, 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 vediamo proprio niente, vediamo niente. Sono innocente. Sei innocente, ok. E questa mucca mi stava guardando male, visto che avevo l'arco. Che cosa fai, mucchino? Ammazzala la mucca, ammazzala la mucca. Mucca Carolina, ammazzala tu che sei l'arco, scusami. E questa ragazzina che non si è mossa per tutta la partita potrebbe essere l'innocente. No, invece no, invece no. Perché è morto qualcuno. È morto qualcuno. Ok, quindi l'assassino non era la ragazzina. L'assassino? Che potrebbe essere, vieni, vieni, vieni. No, 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 stai detto. Dobbiamo confabulare, bella faccia. Confabulare, bla, bla, bla. Chi pensi che possa essere l'assassino? Io non mi metto vicino a te perché ho paura. Ma come? Ma sono il detective, te l'ho però fatto vedere. Scocco una freccia a casa e fammi rivedere che c'è dentro. Guarda. Voi? Un'altra? Eh, un'altra, ora te la sparo. No, non a me. Guarda la sparo. No, 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 hai visto che sono le detective? Ok, ok, ti credo, ti credo. Ok, ora mi credi. Bene, quindi aiutami a trovare questo assassino. Inizia a cercare le varie prove, bella faccia. Potrebbe essere lui. Questo? Guarda questo. Guarda come corre. Ah, questo è molto sospetto. Sì, 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 sì. Prendi questo! No, bella faccia, ti sei messo in mezzo! Però credo di aver ucciso un innocente lo stesso. Sì, ho ucciso un innocente. Ma l'hai ucciso? Ma io non sento niente allora. Ma uffa, dai. Allora che colpisco? La ragazzina. Quarto qui? Sì, 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 sì. Si prova, eh? Penso sia lei. Sta scappando? Sì, sta scappando. Vuol dire che sta nascondendo qualcosa, bella faccia. Chi è? Non lo so. Non lo so. Prendila, prendila, prendila. E beccati questo! Ecco, perfetto. La dobbiamo smettere di uccidere gli indocenti, bella faccia. Senti, io in questa mappa conosco tantissimi segreti in cui nascondermi. Quindi sei fregato, bella faccia. I tuoi segreti non ti serviranno a niente contro di me. Sei sicuro? Guarda, già non riuscirai mai a trovarmi. Guardate dove sono nascosto, ragazzi. Dove sei? Non mi vedrò mai quassù. Dove sei? Eh, non te lo posso dire, bella faccia. Ehi, dove sei finito? Ti posso dire soltanto che c'è una finestrella e io riesco a vedere chi passa qua vicino. Una finestrella? Ragazzi, dobbiamo restare nascosti perché se per la faccia mi trova... Mi ammazzo, sono abbastanza sicuro che lui sia l'assassino. Vuoi un aiuto? Eh, più o meno, dai, dimmi. C'è una lancia, c'è un'armatura in diamante, un letto e una corona in diamante. Ah, interessante. Pensi di aver capito? No, non ho capito un bel niente. No, cosa fa questo impazzito? Non apriva la porta, non apriva la porta. Sta rubando il mio nascondiglio questo. Hmm, vediamo, vediamo, potrebbe essere. Ok, ok, possiamo stare in due, possiamo stare in due. Qual è questa è la nascondiglia, eh? No, non penso proprio per la faccia. Deve essere questo, eh? Oddio, ragazzi. Che hai visto? Ho fatto fuori il tuo amico. Il mio amico? Ma quale amico? Il tigrotto che avevi lì dentro. E a me perché non mi hai ucciso, eh? Allora, non mi hai visto. Non sei finito. No, dai, non vale. Ma cosa c'hai, Ragix? No, 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 no. Non è giusto. Scappa, 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 scappa. Ok, per la faccia non è bravo col parkour. Dobbiamo fare il parkour. no 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 beccati questo vai fai il parkour oh no che cavolo il mio peggior nemico il parkour dai fai il parkour parkour cavolo beccati questo no no ma come hai fatto a prendermilo dietro il muro dai mi hai distratto posta ma non è giusto per la faccia e adesso tocca a te vai alex ammazzalo vai alex prendilo no no prendilo alex prendilo 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 hai trovato il mio nascondiglio per la faccia ero su quella porta ma non era tanto nascosto e come non era nascosto scusa intanto sei entrato e non ci hai visti ma povero maialino che ti aveva fatto una finora scappate ragazzi scappate scappa pure tu scappa dove è l'ultimo c'è qualcuno di invisibile mi sa come è invisibile eh sì ho appena visto dei passi invisibili verso di me oh mio dio ma dove è nascosto questo wow questo non lo troverai mai bella faccia questo non lo troverai mai non lo troverò mai potrebbe essere qua vediamo eh l'ho visto eh vabbè si 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 ne resta solo un altro eh ma l'ultimo non lo troverai mai bella faccia è nascosto veramente benissimo oh mio dio abbiamo vinto vai ecco beccati questo bella faccia per fare l'assassino hai visto dov'era ragazzi spero vi sia piaciuto questo video delle murder mystery mi raccomando lasciate tanti ebay mi piace dal vostro candle e da bella faccia pazzo è tutto noi ci vediamo domani nel prossimo video ciao